vengo in macchina cosa ne pensi a livello di percorribilità con la macchina ma a parte un po la coda tra albisola e savona che comunque è una sicurezza direi che è ben servito diciamo vengo da solo ma poi raccatto i miei amici per strada che vengono in treno da genova veniamo in treno in treno e dalla stazione al campus ci facciamo raccattare dal nostro compagno perché non c'è un autobus che arriva direttamente al campus ci sono ma speriamo dare i nostri soldi a lui rispetto che costa molto meno ci costa molto meno ciao ciao